Benvenuti amici, io sono Stavo Pimpos e oggi torniamo su Hello Neighbor Allora, l'ultima volta ci siamo lasciati qua, abbiamo scoperto questa stanza con la luna in alto, in quella porta Ciò significa che qua dobbiamo entrarci di notte, e proprio di notte siamo, che panorama Allora, quindi vediamo se riusciamo ad aprire sta porta Si apre Allora, qualcuno mi aveva detto di mettere una sedia qua, per evitare che di giorno si richiuda E io lo faccio, lo faccio, vediamo, no, non chiudi, la sedia, dobbiamo metterci la sedia Vediamo se effettivamente non si chiude più, speriamo Allora, vediamo che c'è in questa nuova stanza, io non si vedo niente però Saltiamo, 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 oh, non vedo niente E qui c'è quella di giorno, eh, ma decidetemi però Una di giorno, una di notte Allora, io non vedo niente Che c'è qua? Cosa è sto, cioè non vedo niente ragazzi Non vedo proprio niente Qua c'è un armadietto, non si fa niente Niente, dobbiamo entrare in quella porta Ma tutto il casino che abbiamo fatto per aprire quella notturna adesso ci serve Ma qualcosa si farà Niente, attiviamo la musichetta Aspettiamo il giorno, allora vediamo se magari questa porta rimane aperta Con la sedia Che è caduta tra l'altro Riprendiamola Mettiamo la sedia in modo decente Così Magari riesco ad entrare Allora, che facciamo? Mi butto? Mi butto senza ombrello Così vediamo di far scendere il giorno Vediamo se quella porta è rimasta aperta Adesso il pinco pallino dov'è qua? Pinco pallino dove sei? Pinco pallino dove sei? Qua le latte a terra fanno un casino assurdo Senza sapere il motivo però Spero sia rimasta Sali, sali Allora, spero sia rimasta aperta quella porteccia Apriamo l'ombrello 3, 2, 1 Via Di qua Ok Allora, porta è rimasta aperta Ottimo, ottimo Ottimo Però non posso passare Pian pianino però ci passo Ottimo Vediamo che c'è qua Alleluia Perché Siamo di giorno qua Perché non ti apri? Perché non si apre? È giorno È giorno Perché non si apre? Forse il pomeriggio allora C'è pure da fare il pomeriggio Il giorno eccetera eccetera No vabbè Mi ributto va Mi ributto Vediamo Che succede Splash Ok Siamo al pomeriggio Ma Adesso è giorno però effettivamente Allora era mattina prima Adesso è giorno Misteri Vabbè Allora adesso si dovrebbe accendere Giusto? Cioè aprire la porta Tecnicamente Ok Posso entrare? Adesso sì Oh Alleluia Che c'è? Tutto sto casino C'è una torta qui Un vaso Una scatola E una porta qua Vediamo dove conduce questa porta Allora Dove siamo qua? Una cassaforte Ce l'ho già passato io da qua? Questa si apre? No? Eh Dovrei passare Ok Passiamo Vediamo che c'è Qua c'è un cavo Qua c'è una torcia E c'è pure una porta Che si apre Vediamo un po' Togliamo queste scatolacce Via Togliamo tutte le scatolacce Ok Che abbiamo qua dentro? Che c'è? Ma da qua io credo di esserci già passato Che c'è da queste parti? Ah Qualcuno mi ha detto che devo riprodurre questo quadro Esattamente qui Esattamente qui Quindi dobbiamo trovare tutto quello che concerne questo quadro Allora Che abbiamo? La torcia Ce l'ho in mano La torcia La chitarra elettrica Qua c'è Che cos'è questo? Non lo so Lo skateboard E il cuscino Allora Vediamo un po' Però è flippato È specchiato Quindi la torcia va In quella mensola qua Giusto? Sì però non cadere Non cadere torcia Altrimenti stiamo qua 18 anni Allora Mettiti qua Perfetto Poi Skateboard Prendiamolo Lo skateboard va A destra Quindi qua Ah perché Effettivamente c'è un filo collegato A tutto ciò Vabbè Prima risolviamo l'enigma Sarà questo Aspetta 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 Intanto qui non vedo la chitarra Credo sia un problema Allora Skateboard qui Giusto? Forse Non lo so Il cuscino Il cuscino Prendiamo il cuscino E lo mettiamo accanto allo skateboard Quindi qua Perfetto Forse Perfetto forse Qui c'è O è il cappellino O è il Qualcosa che avevo questo No Cos'era Ecco qua Il cararmato Il cararmato O il cappellino Non è che si vede Sembra il cararmato Mettiamocelo Vediamo Se faccio qualcosa In ogni caso Mi manca la chitarra Allora Oppure C'è qualche altro oggetto La palla Questa è una palla Non si vede niente Non si vede niente Comunque manca la chitarra Qui c'è un bersaglio Qui c'è un bersaglio Posso tirare le freccette Tiriamo le freccette Al bersaglio E via Ok L'ho fatto ma non è successo Niente Allora Diamo un'altra rapida Occhiata Da queste parti Tra l'altro lì c'è Questo bunker Come si apre questo bunker Mi servirà qualche chiave Magari qui dentro la chitarra Non si vede niente però Non si vede niente Non si vede Niente Come si apre sto bunker Perché è pieno d'acqua Ecco qual è il problema È pieno d'acqua Dobbiamo svuotarla E se non ricordo male La leva era proprio dove c'era Quella porta Aspetta Questa Aspetta un attimo Qua Il problema è Eccola lì Eccola lì Il problema è arrivarci Ho trovato La soluzione Eccomi Non cadiamo Per cortesia No Edda L'odio sto gioco ragazzi L'odio sto gioco Di quanto è impreciso Io l'odio Io l'odio Io l'odio L'ho già detto L'ho già detto che l'odio Aspetta Forse con l'ombrello è peggio Disattivo l'ombrello Allora Aspetta Via Via Ce l'abbiamo fatto Ok Adesso si E' saltata pure la maniglia lì Adesso si L'acqua si è svuotata Adesso devo rifare il giro Ovviamente E tra l'altro siamo di notte Quindi Forse quella porta Nemmeno si aprirà più Dov'è che sono atterrati O qua Dov'è di qua Ecco guardate dove conduce Quel cavo ragazzi Mi sa che dobbiamo Ah ok Forse dobbiamo disattivare Questo generatore Però dobbiamo aprire la griglia E per aprire la griglia Dobbiamo risolvere Il mistero del quadro Adesso è tutto chiaro Di ciò che dobbiamo fare Dobbiamo ancora salire lì sopra Farò un sacco di cose Ancora Allora Ombrellino è carico Ehm Niente Mi posso buttare nuovamente Mi chiude pure la Dov'è Non vedo niente Ciao Ciao Almeno è giorno Adesso vediamo un po' di più Tanto non ci frega più niente Della notte Sperando che la porta Rimanga aperta Stavolta ce la metto pure qua Una sedia va Mettiamoci una sedia anche qua Così la finiamo Così va bene Per sicurezza Mettiamo più in dentro Ok Mettiamola qua E basta Oh Finalmente Allora Riusciamo ad aprire Questo bunker Adesso si Alleluia Adesso si Che cosa ci sarà mai Qui dentro Eccola qui La chitarra Finalmente Finalmente Andiamo subito a metterla Sempre se E dai Passa Sempre se riusci Ecco qui il cavo Che conduce a quel generatore Allora Manca solo la chitarra Giusto Sempre se tutto sia corretto Eh come facci a sapere Che è corretto qui Oppure effettivamente Un cappellino Questo Forse è il cappellino Perché è marrone Quel cappellino Proviamoci il cappellino Intanto dobbiamo togliere Il carro armato Qua però Mettiamo il cappellino Togliamo il carro armato Mettiamolo Prendiamo questo E mettiamolo qua Ok Non so se funziona Va bene così Va bene così Sto coso Seguiamo il cavo Allora vediamo se È cambiato qualcosa lì Ho paura di cadere però Non è che si vede Proviamo ad andarci Più di cadere Non possiamo fare ovviamente Aspetta Non è Ecco qua Lo sapevo Lo sapevo Sono caduto come un cretino Vediamo se si è aperto però È tutto chiuso qua Mi sa che non ha funzionato La situazione qua Ah ma la chitarra è vicino La torcia Ecco cosa che mi sfugge E il cuscino è sotto la torcia Ora sì Aspetta un attimo Aspetta un attimo Che ho capito Allora Cuscino sotto la torcia Ok Chitarra Vicino la torcia Quindi qua È cappellino Allora Dove Dall'altra parte Mentre Lo skateboard È sotto la chitarra E qua potrebbe starci Rimettiamo Per sicurezza Sotto la chitarra No No Riprendilo Senza far danni però Senza far danni Sotto la chitarra Qua E se non va così Non so che fare ragazzi Se non va così Non so che fare Non ti buttare No Si è aperta Si è aperta Aspetta un attimo Che si è aperta Solo che mi son buttato Si è aperta però Problema adesso Ma perché si butta Perché si butta da solo Perché Da qua ci posso arrivare L'ombrellino è aperto Si Posso saltare Spero di si L'ombrellino è aperto E via Non mi Non mi prendete in giro Perché incendio il gioco Incendio Ok piano Pia No Non si può Non si può Non si può Non si può Una cosa del genere Non si può Tentativo numero 3 Via E dai No ti pre No adesso cado Adesso cado come un deficiente Perché 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 Piano Piano Ok E alleluia E alle Disattiva sto coso Oh Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Finalmente Va bene Attiviamo l'ombrellino E me ne vado Diretto a casa Per oggi Direi che abbiamo fatto Fin troppo Fin troppo Va bene ragazzi Quindi Al prossimo video Continueremo Questo lunghissimo Atto 3 Voi ovviamente Lasciate un bel like Mi ricordo di poter seguire Il marco sulla base Facebook Twitter Instagram Tutti i dati social Di cui trovate il link In descrizione Iscrivetevi al canale E per oggi è tutto Al prossimo video Oggi torniamo su Bendy and the Ink Machine Allora Stiamo per iniziare Il capitolo 5 L'ultima volta Abbiamo finito il 4 Siamo stati catturati Da Boris Ed Angel Nonostante L'abbiamo sconfitto Ovviamente Atto 1 Siamo stati catturati Siamo stati catturati